I ragazzi dell'Empedocle oggi protagonisti con la rappresentazione teatrale e il riflesso di Antigone. È il secondo anno che il laboratorio teatrale dell'Empedocle, voluto fortemente dal liceo classico Empedocle e dalla fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, si ripropone e si ripropone ai ragazzi e alla città. È stata un'esperienza straordinaria sin dallo scorso anno che per la sua valenza didattica abbiamo voluto riproporre anche quest'anno con un testo che è il testo di Sofocle, la tragedia Antigone, che comunque viene anche rivisitata dal regista Marco Savatteri che ne fa una rilettura estremamente significativa, culturalmente importante, legata anche ad un contesto di contemporaneità e ricca di spunti di riflessione sotto il profilo storico-culturale. Ed in tal senso il riflesso di Antigone è stato riproposto al Festival Internazionale dei Giovani di Palazzolo a Creide, al quale i ragazzi hanno partecipato esibendosi domenica 26 maggio. È stata un'esperienza straordinaria anche quest'anno, sotto un profilo umano, sotto il profilo formativo, sotto un profilo educativo e noi ci auguriamo che questa esperienza nel tempo possa essere sempre riproposta perché questo fa crescere la conoscenza e l'amore verso i classici ma favorisce e sensibilizza ovviamente l'attenzione dei nostri ragazzi verso la cultura. Grazie